Mantenere la qualità del servizio riducendo però i costi. Questo l'obiettivo dichiarato del comune di Cesena che giovedì ha pubblicato il bando per la nuova gestione del canile comunale. C'è tempo fino al 27 settembre per presentare le domande e il concorso dall'importo di 290 mila euro per due anni è rivolto a tutti gli operatori economici con, si legge dal testo, comprovata esperienza nel settore. Una scelta che ha già fatto discutere in consiglio comunale. Da una parte l'opposizione che ha chiesto che il canile continua ad essere affidata all'attuale gestione. Dall'altra il sindaco che ha spiegato che la pubblicazione del bando è un obbligo e non un capriccio. In mezzo i volontari di ACPA che da quasi 25 anni si prendono cura dei loro ospiti e che hanno fatto del canile di Cesena una struttura riconosciuta ed apprezzata a livello nazionale. Al momento abbiamo circa 60 ospiti, mediamente la struttura compie 109 adozioni all'anno, ad esempio nel 2018 sono state 105 le adozioni. Tipologia dei cani ospiti della struttura che è molto cambiata negli ultimi anni. Da tempo vanno per la maggiore i molossidi, come ad esempio i pitbull, a cui i padroni hanno rinunciato perché non sono in grado di prendersene cura. Spesso hanno dei problemi a livello comportamentale, per questo ACPA ad oggi lavora insieme a degli istruttori professionisti per poter recuperare tali cani e poter favorire le loro adozioni. È stato pubblicato adesso il nuovo bando, come vi ponete? Voi vorreste continuare da gestire il canile? Assolutamente sì, noi avremmo molto piacere di continuare una gestione che dura da oltre 24 anni e proprio in merito a tale bando abbiamo iniziato a cercare di capire come poter mantenere la qualità garantita fino ad oggi.